Cristina Marino e Luca Argentero sono da poco tornati da un meraviglioso viaggio alle Maldive L'imprenditrice ha postato una foto della figlia Nina che ha dell'incredibile Cristina e Luca sono la coppia tra le più invidiate della televisione I due si sono conosciuti sul set di un film, e da quel momento non si sono più lasciati Insieme si sono vissuti giorno dopo giorno mettendo in piedi negli anni una famiglia meravigliosa Nina Speranza è la femminuccia di casa e no è il maschietto arrivato da poco Un matrimonio nell'assoluta privacy è stato quanto desiderato dalla coppia Entrambi hanno sempre attenzionato ogni minimo gesto per provare, per quanto possibile, a tutelare la loro vita personale Essere due personaggi così famosi rende la questione notevolmente complicata Luca è tra gli attori più seguiti di sempre Cristina Marino posta una foto della figlia Nina Cosa salta all'occhio? Tra un impegno e l'altro i due riescono a trovare sempre del tempo da dedicare ai loro figli e alla loro relazione Questo è fondamentale per riuscire a non perdere mai la sintonia e la complicità Caratteristiche fondamentali per tenere saldo un matrimonio Argentero è reduce dal successo incredibile della terza stagione di Doc I suoi progetti non si fermano proprio mai La quarta stagione è in lavorazione ed un nuovo ruolo arricchirà la sua carriera Cristina è sempre a capo della sua azienda Una certezza per tutti coloro che desiderano un corpo asciutto ed allenato Luca e Cristina insieme a Nina e Noè sono partiti per un viaggio alle Maldive Tante foto e condivisioni online hanno fatto impazzire i fan Tra scatti al tramonto e video romantici Al ritorno a casa Cristina ha postato sul suo profilo una foto della piccola Nina Sei cresciuta tanto e i tuoi capelli sono diventati più lunghi dei miei La piccola nella foto è assolutamente uguale alla mamma anche da dietro Ovviamente la scelta della coppia di non mostrare i figli in viso non permette ai fan di poter notare una chiara somiglianza Questo scatto però è abbastanza per notare la crescita della piccolina E la fisionomia sempre più simile a quella di mamma Cristina Chioma bionda e foltissima e un fisico davvero simile a quello della Marino Nina e Noè sono la gioia di mamma e papà Luca in molteplici interviste ha raccontato con l'emozione negli occhi Di quanto l'arrivo dei figli abbia completamente stravolto la sua vita La Marino è la donna che ha sempre sognato ed insieme hanno dato vita ad una famiglia ricca d'amore Chissà se presto la coppia non regalerà ai fan una dolce notizia Consapevoli del fatto che entrambi preferiscono preservare al meglio ogni dettaglio